Continua a tenere branco a Modica la vicenda dei pozzi d'acqua affittati dal Comune. Da registrare una interrogazione del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Marcello Medica e una nota di Fratelli d'Italia. Il consigliere 5 Stelle in particolare chiede di sapere il numero di fonti di acqua ad uso potabile da cui si approvvigiona il Comune di Modica per soddisfare i fabbisogni del territorio comunale. Quali fonti sono di proprietà comunale, quali di enti e quali di privati? Quale rapporto l'ente comune intrattiene con ciascuno di tali enti o privati? Quanti metri cubi sono stati forniti da ciascun impianto di approvvigionamento nel 2017? Quanti metri cubi sono stati forniti da ciascun impianto di approvvigionamento dall'inizio di quest'anno? I criteri che hanno determinato nella pattuizione con enti o privati il costo di prelievo al metro cubo di acqua o altra forma di compenso per il fornitore sia durante i mandati di questa amministrazione sia di quelle precedenti. Il coordinamento modicano di Fratelli d'Italia attraverso una nota del portavoce Emanuele Cavallo chiede invece chiarimenti su un eventuale affidamento ad una ditta esterna del servizio di lettura dei contatori idrici curato fino ad ora da personale della servizi per modica. Fratelli d'Italia inoltre ritiene eccessivo il costo per l'affitto di alcuni pozzi privati e per la realizzazione della relativa condotta al loro servizio. Sarebbe certamente più conveniente, secondo Fratelli d'Italia, che il comune provvedesse alla realizzazione di propri pozzi. Grazie.